pensavo con il toto allenatori di aver toccato il fondo no ragazzi adesso c'è il toto punta per il Milan che ci sta dando delle gioie incredibili nomi dati e 20 minuti dopo smentiti adesso è spuntato anche quel nome il nome il nome più improponibile in questo momento per il Milan è cicciato fuori e alcuni giornalisti lo stanno portando come notizia veritiera come se ci fosse veramente la possibilità che Romelu Lukaku Romelu ancora devo sentire parlare di Romelu Lukaku è accostato al Milan come nuovo bomber o addirittura c'è chi dice come bomber però di scorta per fare da chioccia al bomber giovane che prenderanno quindi Lukaku è soltanto quella strategia per insegnare c'è Lukaku che prende minimo 7 milioni 7 e mezzo che nel Milan non li prende nessuno dovrebbe venire nel Milan a prendere più soldi di layout Hernandez e Magnan dovrebbe venire lì nello spogliatoio del Milan sedersi e dire ragazzi sono il vostro nuovo bomber Romelu Lukaku che uno può dire ma minchia ragazzi Romelu Lukaku dai ha fatto sempre bene perché voi avete ricordo di Romelu Lukaku dell'Inter guardatemi il Romelu Lukaku della scorsa stagione che non riusciva a fare manco uno scatto ma manco se c'era uno dietro che lo stava per sparare o gli mettevi una salsiccia davanti e quello correva o niente c'aveva lo stesso scatto di Giroud cioè se qualcuno quest'anno si è lamentato dello scatto di Giroud Romelu Lukaku in condizioni più pietose di Romelu Giroud e prende una barca di soldi e in più adesso di no smentitela subito perché non verrà non verrà smentitela subito perché la cosa grave sapete poi qual è? che hanno già iniziato hanno già iniziato e noi di posti del Milan non ci dobbiamo cascare dai ragazzi dopo l'anno scorso ci siamo ritrovati Jovic non possiamo ricascarci a questa roba del sì il Chelsea lo potrebbe dare in prestito perché il Milan ovviamente Lukaku lo può prendere solo in prestito figuriamoci lo vanno pure a pagare non sia mai sì lo vanno a prendere in prestito però sai non è che te lo possono dare in prestito a giugno o a luglio devi aspettare le settimane finali di agosto col cazzo col cazzo togliete subito di mezzo sta roba di Lukaku che non ha niente a che fare con il Milan dal punto di vista come calciatore dal punto di vista dell'ingaggio non ha niente a che fare ok? poi se veramente dovesse andarlo a prendere a fine mercato vuol dire che tu il mercato l'hai già fatto tu non devi aspettare nessuno non dovete aspettare più niente siamo già capitati con un Taremi basta avanza ci siamo ritrovati Jovic che poi alla fine quel Cristiano ha fatto pure il suo lavoro ma non fatemi sta roba del bisogna vedere il mercato ancora lungo perché poi vi pigliano per il culo con sta roba del mercato ancora lungo il mercato non è il mercato è quello che si fa subito perché poi i giocatori vanno via poi non rimane più niente ad agosto rimangono gli scarti degli scarti degli scarti che non vogliono le società e va bene fare magari il colpo last minute l'ultimo giorno di mercato l'ultima settimana di mercato ti trovi l'off va benissimo ma non deve essere il tuo obiettivo primario l'attacco del Milan è fondamentale già ragazzi quello che sta succedendo ovviamente è figlio della scelta dell'allenatore perché quando voi dite eh ma perché ti incazzi tanto ma Fonseca dagli una scia non è il problema Fonseca ve l'ho ripetuto 500 volte sono andato pure sul canale degli altri a ripetervi questa cosa ma niente non lo capite non è la scelta del cristiano Fonseca è la scelta della mediocrità e il mercato del Milan andrà su quella strada perché le trattative del Milan sono vengo chiedono commissioni eh no non paghiamo commissioni e chiedono il prezzo del cartellino eh il cartellino è troppo alto noi non abbiamo quel bar e allora chi vuoi comprare chi vuoi prendere chi vuoi prendere hai perso l'allenatore sul momento che avete visto a Napoli che sta succedendo sembra che hanno vinto un altro scudetto perché è normale fanno bene poi vabbè alcuni sono troppo esaltati e parlano già di robe che non li competono e poi rimangono male e sono sempre gli stessi però è giusto che comunque in questo momento il tifoso napoletano sia esaltato come si sarebbe esaltato il tifoso del Milan non pigliamo per il culo perché sono quelli poi che prendono in giro i napoletani ma è giusto che loro oggi festeggino perché possono anche arrivarci dietro ma comunque hanno le intenzioni giuste stanno facendo le cose giuste e Lukaku probabilmente è più un obiettivo per il Napoli di Conte cioè se fosse venuto Conte allora mi associ Lukaku al Milan ci potevo pure credere perché dico vabbè Conte è un suo fedelissimo lo vorrebbe li crea la squadra intorno e sicuramente con Conte Lukaku può fare meglio lo può mettere magari in forma può dargli quegli stimoli giusti perché Lukaku se viene al Milan con Fonseca avrebbe gli stessi stimoli che aveva la Roma cioè quelli di prendersi un anno di stipendio far passare un altro anno e andava Lukaku deve andare in Arabia Saudita Lukaku deve andare lì non deve più rompere i coglioni vai lì prendi miliardi dei miliardi addirittura il Milan può prenderlo prende sia Lukaku che l'attaccante giovane così insegna ma dai ma state scherzando ma state realmente il Milan ha bisogno di un Lukaku che faccia da chioccia cioè c'è Ibrahimovic in società che può tranquillamente correre più di Lukaku in questo momento se proprio deve dare qualche consiglio a un attaccante giovane ma l'attaccante giovane sapete chi è? l'attaccante giovane si chiama Sesco e ti chiedono 50-60 milioni di euro e quello è l'attaccante che devi andare a prendere in questo momento che se ti fa bene l'anno prossimo te ne vale 100 di milioni perché ha già il nome del predestinato sono quelli gli attaccanti che devi andare a prendere Zig Zee ti sta quasi pregando di venire ok c'è sto procuratore che rompe i coglioni con le commissioni ma chi te le dà 15 milioni di commissioni non gliele darà nessuno quindi vai a trattare glielo dici compa se i soldi non te li darà nessuno Zig Zee da quello che ho capito vorrebbe venire al Milan che va a fare a giocare nel Bayern Monaco che farebbe 5 presenze all'anno si ok avrebbe più possibilità di vincere i trofei ma cosa va a fare Zig Zee è nel pieno della sua carriera adesso ha preso pure la delusione che non è stato convocato nella nazionale vuol farsi vedere vuol giocare ditemi una piazza in questo momento in Europa come il Milan con tutti i tifosi e tutta la comunque la vetrina che ti dà il Milan che magari non è più il Milan di Ancelotti non è più il Milan delle Champions ma è comunque una vetrina importante è molto più importante di alcune altre squadre anche se magari fanno meglio anche se magari arrivano in piazzamenti migliori non avranno mai la vetrina del Milan quindi dimmi quale squadra come il Milan ti regala l'attacco perché Zirze non è che sarebbe l'attaccante titolare sarebbe proprio la stella del calcio mercato probabilmente farebbero la campagna acquistico nella sua faccia cioè la campagna abbonamentico metterebbe la sua faccia come super colpo dell'anno quando Zirze doveva essere un'aggiunta alla squadra qua diventerebbe l'attaccante numero uno il numero nove indiscusso chi ti dà quella chance quindi sono quelli gli attaccanti da prendere ma fatemi sentire che la pista Zirze e il Milan ci sta puntando forte non sparate ste puttarate giusto per dover dare aria la bocca e dover riempire i giornali perché ragazzi veramente non ha senso che è rimasto adesso che è morata se il prossimo giocatore che associano al Milan è a morata io ragazzi faccio un video di dieci minuti di sciopero mi metto qua dieci minuti di sciopero se esce in questi giorni una notizia che è morata perché l'ultimo è rimasto che viene associato al Milan io faccio dieci minuti di sciopero faccio un video di dieci e voi ve lo dovete guardare tutti e dieci minuti insieme a me a fare sciopero anche voi e sapete che questa idea dell'attaccante che dovrebbe no fare da chioccia un attaccante più giovane ci potrebbe essere un vero nome uno reale non Lukaku uno reale che è libero in questo momento nel mercato che è sempre stato associato al Milan e probabilmente adesso spunterà anche il suo nome si chiama Memphis Depay è un giocatore che io andrei a prendere subito ma non per far rifare il titolare ma proprio per far rifare quel tipo di giocatore che dà l'esperienza in più alla squadra perché il Milan in questo momento ragazzi di leader ne ha pochi Depay potrebbe venire è uno subito che si prenderebbe lo spogliatoio sarebbe un leader lo prendi gratis si ok va bene gli darai qualche commissione lo stipendio tutto quello che vuoi e in più potresti prendere poi l'attaccante vero alla Zirze sapete quanto potrebbe migliorare quello potrebbe essere un identikit non Lukaku che viene al Milan per prendere più soldi di tutti chiedere una barca dei soldi e vorrebbe anche ovviamente giocare titolare altro che da chioccia Lukaku non è che viene a fare il panchinaro quindi ragazzi non è proprio un profilo da Milan è ridicola anche la notizia probabilmente tra poco verrà smentita per me Lukaku è difficile anche vederlo al Napoli però con Conte qualcosa potrebbe succedere per me però Lukaku è destinato ad andare a finire addirittura alcuni hanno detto pure che potrebbe rimanere al Chelsea ma non ha i ritmi della Serie A va a giocare in Premier League allora si potrebbe giocare under over palloni toccati in Premier League di Lukaku dai 2 ai 3 palloni a partita toccati da Lukaku in Premier League lasciate like iscrivetevi al canale se vi va bella Lukaku ok ok grazie a tutti